... Intanto bonus speso per Scafati che però recupera palla con incredibile magia di Simons. Busciati tiene in campo questo pallone con un miracolo, Fernandes spezzano dopo con una gran giocata contro l'Italiano, ha lasciato la parabola per Totè che va ancora ad inchiodare. Due secondi per tirare, va da metà campo, Raspino prova a segnare e mette una bomba. Va a scaricare un pallone difficile per Renzi che prende il tiro a tre punti e lo spaglia rimbazzo d'attacco, Okoye con la grandissima affondatatura. Mamma mia abbiamo visto volare la maglia numero 11. Montano soffato da Trasolini, c'è Rodinic, questa volta Rodinic effette una scherzata a di poco spettacolare. Grande difesa di Bruttini che recupera il pallone dietro la schiena per Fernandes, per l'abimale di Mirzali-Begovic. Scora Pantinelli incaricato, stessa rimessa Fabi da tre, si alza di rassegno, proprio sulla sirena, il buzzer-beater di Agustin Fabi. Bolleri che non riesce ad insiedere, in qualche modo alza la parabola e segna un canestro incredibile, Massimo Bulleri. Purtutto che va sotto, da John The Flowers, Poye Daniel fa una cosa senza senso, raccogliendo il cielo al rimbalzo, schiacciandolo dentro. Diciamo che sono quelle live che di solito vedi nella top 5 dell'NBA.